Ah buonasera! Buonasera che vado del pesce spada che ho preso oggi al mercato questo però non lo facciamo tutto questo questo acquari di pesce spada questo e questo e questo e questo ecco qua me lascio indietro questo che poi lo usiamo per farci un sugo per la pasta che sa mi sa fare una pasta con il sugo di pesce spada buonissimo questo me lo lascio indietro e questo adoperiamo per farci la cena di stasera eccolo qua cuore di pesce spada l'idea mia è di farmi piastrati semplici un po di pepe un po di sale e forse un pizzico di peperoncino vediamo il pezzetto dello smalino e quello fresco che ci abbiamo noi sciacquadina mettiamo dentro grossolano senza spezzettato troppo così la mischiata semplice semplice così gli do solo un aggiunta di un goccetto di vino bianco un'altra mischiatina e lo lascio macerata fatevi conoscere la schiaie così una girata acqua sul gelata di vino un po' di limone un po' di limone un po' di limone un po' di vino un po' di limone abbagnata così ok possiamo pure spegnere un po' di limone andiamo da i commensali eole tagli che bello sappiamo pure la music stasera che bello si stavolata di! si manco un castello ti sei stavolata abbastriamo caro Questa faccaccia è un po'... C'è pure il panino all'olio qua... C'era un panino all'olio... Caffettino con la palata... C'è qualcuno che sta già pronti via e deve uscire... E' qualcuno che si è appena svegliato... Ah buongiorno amore... Caffettino? Caffettino? Si... Caffettino... E' prestissimo ancora... Caffettino... 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 Ti sei svegliato particolarmente bene... Perché ti sei zittato un secondo amore... E canta... E canta... Ma io nel sonno? Eh... Io mi ho detto pure... Dici... Spagli... Dici... Ce la posso fare... Ce la posso fare... Mentre dormire... Il sonno... Ce la posso fare... Ce la posso fare... Ma è uno che non molla mai... Non è il sogno... Grazie amore... Ha preso? Io no... Aspetta... Non posso poggiare... Ma è cascato di... Guarda... 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 Mamma mia... Lei si è rossato io... I nostri cornetti... Mamma mia... Guardate che sole... Mamma mia... Vabbè... Tare piano... Mettiamo apposto la cellula... Cabina... Vediamo... Luca... Se si è svegliato... E se riparte... Ci spostiamo... A dopo... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti